5 giorni e 81 dal 6... Comandante, cosa prevede la nuova normativa? Si tratta dei sistemi che sono previsti a tutela dei bambini ed è proprio il sistema quello anti-abbandono perché purtroppo sappiamo bene dalla cronaca che sono successi tanti casi in cui i bambini sono stati abbandonati in macchina quindi è una norma di alto senso civico che modifica l'articolo 172 codice della strada che prevede proprio utilizzo di cinture di sicurezza nonché sistemi di ritenuta a sicurezza dei bambini Per coloro che non rispettano le normative quali sono le sanzioni previste? Per quanto riguarda il controllo che verrà fatto da questo comando noi ci rifacciamo un po' alla missione quella che è propria del nostro comando che è, come potete vedere anche alle mie spalle è proprio quella di avere un occhio sempre vigile e come tale essere attenti a tutti i comportamenti che vengono messi in campo in che modo? Con responsabilità, buonsenso e cortesia Per quanto riguarda nello specifico questa nuova normativa all'oggi non ci sono tanti dispositivi in giro nei negozi non solo i dispositivi che ci sono la gran parte non sono omologati per cui oltre a questo proprio di questa mattina è una dichiarazione del Ministero che vuole anche posticipare l'entrata in vigore delle sanzioni Ci incentreremo nel far rispettare il principio perché come ho detto è di alto senso civico è a tutela dei bambini in caso di allontanamento in cui un genitore involontariamente perché su questo siamo tutti d'accordo involontariamente se lo dimentichi in macchina deve essere prontamente avvisato affinché non succeda il peggio per cui colgo l'occasione per invitare tutti i genitori di bambini di età infiorire a 4 anni nel frattempo di munirsi di questi dispositivi noi ovviamente faremo dei controlli affinché i veicoli che trasportano bambini in questa fascia d'età ne siano muniti ma senza iniziare da subito con le sanzioni grazie a tutti grazie a tutti